inizia quindi napoli rialzo sedante primo tempo in questa gara che vale la qualificazione ai trentaduesimi dell'europa league ma seguiamo da quest'azione sulla corsia di destra e cross colo di ospina che respinge detta legge rialzo sedate ancora rialzo sedate che riguarda la palla fortu va al cross verso il centro di testa mario rui stava quasi per fare un clamoroso autogol ospina deve tuffarsi alla sua destra e la palla va in calcio d'angolo stava per insaccarsi sarebbe stato clamoroso da maximovic che sbaglia l'intervento su william josè che va via e tutto solo sulla destra il passaggio al centro portu a porta vuota manda fuori clamorosa l'azione fallita dal numero sette portu insegna il suo cross baccaiocò la pala stazionale il tiro fuori di poco mertens dalla bandierina ecco il suo cross verso il centro anticipato baccaiocò maximovic il tiro gol 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 zilischi zilischi il compagno zilischi ha realizzato un gran gol fondamentale per il napoli europeo e quindi napoli 1 rialzo sedate a 0 portu montreal il cross verso terra e arriva all'ultimo istante mario rui a deviare in calcio d'angolo altrimenti jano zai jano zai avrebbe insaccato portu riceve un pallone entra in area di rigore sulla sinistra converge verso il centro il passaggio indietro per merino il tiro fuori mertens si produce in uno scatto sulla corsai sinistra va al cross verso il centro lozzano sfiora la palla che rimane in campo rialzo sedate che va ora all'attacco un cross al centro gulam attenzione il tiro di josè gol segna in questo momento se gol dell'uno a uno e si qualificano con questo volo se non segna la z alkeman esatto